2-0 il punteggio finale e tre punti in più in classifica. La Vispesero può gioire dopo la prestazione di ieri al Benelli contro la Feralpi Salò, che ha portato in casa Biancorossa un risultato importante dopo l'assenza di vittorie nelle ultime sei partite. Una prestazione che ha messo in luce il lavoro e la preparazione dei giocatori, come sottolineato dall'attaccante Cannavò, autore del primo gol del match, e da mister Di Donato. Abbiamo affrontato squadre blasonate e non abbiamo mai meritato di perdere, anzi se c'era una squadra che doveva vincere la nostra, quindi mi sono basato sulla prestazione dei ragazzi in questo periodo che erano ottime e oggi è uscita fuori questa grande prova dei miei ragazzi e i complimenti vanno tutti a loro. Forse il primo tempo la dovevamo chiudere già nel primo tempo, abbiamo avuto tante palle gol per arrotondare il risultato, però va bene così, il 2-0 è il risultato che ci sta e ce lo prendiamo. E ti ripeto, il merito è tutto di questi grandi ragazzi che stanno facendo veramente un gran lavoro. Io ho chiesto solo ai ragazzi di attaccare alti, che c'era solo un risultato dalla nostra parte, dovevamo rischiare qualcosina dietro e di stare sempre alti, di giocare con gli esterni proprio sui terzini loro. ero un 3-3-4 alla fine, mi hanno seguito la lettera e alla fine sono venuti fuori una buona gara e di tante occasioni. Sono contento, sono contento perché ti ripeto, i ragazzi stanno lavorando bene e meritano queste situazioni. Una grande vittoria è venuta dopo un paio di sconfitte pesanti, anche un po' bugiardi direi, sfortunati anche nelle ultime. Oggi ci dà morale e siamo contenti. Ora dobbiamo continuare su questa strada e andare a Cesena con la mentalità giusta. Clima meno gioioso invece in casa dell'Alma Juventus Fano, che in trasferta a Bolzano nel turno infrasettimanale contro il Sud Tirol, ha dovuto incassare un pesante 3-0. L'allenatore Flavio Destro ha parlato di un avversario importante, contro il quale ci sono state disattenzioni come le prime due reti subite, occasioni non sfruttate, ma anche qualche situazione giocata bene, specialmente nel primo tempo. La concentrazione ora è per il prossimo match in programma, domenica contro la fermana.